Uedì, Luca Salatino, non è tanto la mala piccolezza di chi credevi grande. La favola d'amore tra Luca Salatino e Soraya Ceruti è giunta al capolinea, dopo i pettegolezzi di gossip dei giorni scorsi. La conferma è arrivata dall'extronista di Uomini e Donne. Ma non è tutto, Salatino ha postato una storia criptica in cui ha lasciato intendere di esserci rimasto deluso da una persona che credeva grande ma in realtà si è dimostrata piccola. Da qualche settimana a questa parte, si mormorava di una possibile crisi tra Luca Salatino e Soraya. Nella serata di lunedì 17 aprile, l'extronista di Uomini e Donne ha confermato la fine della relazione. Al tempo stesso, lo sciafre umano è sembrato volersi togliere qualche sassolino dalla scarpa. Nel dettaglio, ha postato una storia in cui ha chiusato, non è tanto la grandezza delle delusioni. Ma la piccolezza di chi credevi grande. Il diretto interessato non ha menzionato alcun nome, ma potrebbe trattarsi di una frecciatina nei confronti della sua ex Soraya. Probabilmente Luca si è sentito tradito da una persona alla quale aveva dato il suo affetto. Grazie. Grazie.